Buonasera, ben trovati con la nostra rassegna stampa, mattino di Puglia e Basilicata, bivì il barbaro, la scuote pure Crosetto, Israele, Semina, Odio e poi PNRR, Meloni adesso chiama tutti in cabina, le cabine di regia delle prefetture per l'applicazione del PNRR presentate oggi dal governo a Roma e poi Stellantis rilancia anche su Melfi, incontro positivo, ora tocca al governo e poi eccolo qui l'appello in Puglia no al G7 della guerra.